Un Open Day il 9 e il 10 giugno in tutta la Toscana per dare la possibilità a chi ancora non l'avesse fatto di vaccinarsi contro il papillomavirus. Il vaccino rappresenta infatti un'arma di prevenzione contro il tumore al collo dell'utero per le donne e delle mucose genitali per i maschi. Si tratta di tumori che in Italia provocano oltre mille decessi l'anno. Nella giornata di DNFD ci sarà l'intervento dei pediatri di libera scelta, sabato tutte le sedi vaccinali ASL, aperto, orario continuato e senza prenotazione per garantire la vaccinazione. 23 i centri vaccinali che hanno aderito in tutta la regione. Nella Retino sarà aperto quello di Arezzo, il poliambulatorio di Bibiena e quello di Sansepolcro ed infine l'ospedale della Gruccia. Questa vaccinazione protegge da malattie sessualmente trasmesse, è rivolta a persone di sesso femminile date, nate dopo il 1993 o maschi nati dopo il 2006 che comunque hanno 9 anni di età. È una vaccinazione che protegge da malattie sessualmente trasmesse. Do una statistica, circa 8 donne su 10 vengono a contatto con il virus HPV nella loro vita e il virus HPV è responsabile anche del tumore della cervice uterina. Un tumore importante e la vaccinazione ha indubbiamente un valore protettivo. Da qui l'importanza della vaccinazione. In Toscana la copertura vaccinale è superiore che nel resto d'Italia. Ma siamo ancora intorno al 50% delle persone che sono suscettibili alla vaccinazione.